Facciamo insieme un riscaldamento per gli occhi. Ti mostrerò cosa fare. Memorizza l'esercizio. Poi lo faremo insieme. Chiudo gli occhi stretti stretti. Uno, due, tre. Apro bene gli occhi e li tengo aperti. Uno, due, tre. Ora facciamolo insieme. Chiudo gli occhi stretti stretti. Uno, due, tre. Apro bene gli occhi e li tengo aperti. Uno, due, tre. Stai andando benissimo. Facciamone un altro. Solleva i pollici in su. Così. Guardo il mio pollice destro. Poi quello sinistro. Ora facciamolo insieme. Solleva i pollici in su. Così. Guardo il mio pollice destro. Poi quello sinistro. Magnifico! Abbasso le mani. Facciamone un altro. Guardo il soffitto. Poi il pavimento. Ora facciamolo insieme. Guardo il soffitto. Poi il pavimento. Benissimo! Facciamone un altro. Solleva in alto l'indice. Così. Guardo il mio indice e mi tocco il naso. Poi guardo il dito e sposto la mano in avanti. Ora facciamolo insieme. Solleva in alto l'indice. Così. Guardo il mio indice e mi tocco il naso. Poi guardo il dito e sposto la mano in avanti. E ora facciamo riposare un po' gli occhi. Mi strofino le mani. Poi chiudo gli occhi e ci appoggio sopra i palmi caldi. Ora facciamolo insieme. Mi strofino le mani. Poi chiudo gli occhi e ci appoggio sopra i palmi caldi. Molto bene. Adesso che hai fatto riposare un po' gli occhi, puoi continuare a giocare.